Buongiorno e bentornati ad un nuovo appuntamento con Di Prima Mattina. Buongiorno da parte mia e da parte di Giancarlo Rapagnà in regia. Sabato 25 giugno 2022 si chiude, si sta chiudendo la 26esima settimana dell'anno. Quello di oggi è il giorno numero 176, alla fine ne mancano 189. Si festeggiano San Guglielmo e San Prospero. In questa prima parte sfoglieremo i quotidiani in edicola, il centro e il messaggero in particolar modo. E poi alle 9 ci ritroviamo a Bellante per la trasmissione a colazione. Questa mattina sarà ospite Giovanni Di Carlo. E parleremo di basket, dell'iniziativa della nuova Campli, soprattutto a livello giovanile. Partiamo subito con la rassegna stampa e con il quotidiano Il Centro. Il titolo di apertura incendiata, l'auto di due avvocati. Teramo avvertimento per bloccare un pignoramento. Indagati padre e figlio. Sotto la testata il titolo dedicato al Covid, la nuova emergenza. Omicron 5, già pronti due vaccini. L'Abruzzo però dovrà aspettare. Caro bollette, luce e gas, altri tre mesi di sconti per le famiglie. Allarme lavoro a Tessa. Dal lunedì la Sevel si ferma altri sette giorni. Mancano i pezzi per la produzione. Teramo e provincia. La finanza scopre i furbetti nei guai. 40 evasori totali. Finalmente qualche buona notizia. Stoppa i lavori, maxi code e stress in autostrada. Per quanto riguarda l'Abruzzo, ma anche le Marche, nella fotonotizia. Cantieri in A14 scatta la tregua fino a settembre. Strisce blu sono attivi i parcometri. Siamo a Teramo. Partito il nuovo sistema. E a Giulianova arrivano 100 posti auto a Lido. Eventi e giochi. Inserto estate. Oggi al Via. Giovanotti a Vasto. Ecco gli ospiti. Martinsicuro dopo il voto. Vagnoni, la giunta è un rebus. Il sindaco fatica a trovare la quadra. Possibili spaccature. Pineto e Silvi. Legambiente premia la spiaggia del Cerrano. E poi per quanto riguarda lo sport in prima pagina. Calcio serie C. Il primo luglio il verdetto della Covisoc sul Teramo. A tal proposito. Vi anticipo che poi ve lo ricorderò anche quando affronteremo la pagina sportiva. Nel corso dei nostri notiziari in programma oggi avremo un'intervista con Gabriele Gravina, presidente della FIGC, che parlerà anche della questione Teramo. Quindi vi invito a seguirla. Andiamo avanti con la rassegna stampa, le pagine interne del quotidiano Il Centro. Coronavirus, la nuova emergenza. Omicron 5, pronti due vaccini, ma l'Abruzzo dovrà aspettare. Marinangeli, nessuna certezza sulla data. Intanto le dosi somministrate crollano di cento volte. E a parlare è il primario referente regionale per le emergenze sanitarie, Franco Marinangeli. C'è una convinzione diffusa che il pericolo sia terminato. Non è così. Il virus corre e fa temere anche per l'estate. Qui c'è un boxino nel quotidiano Il Centro con il confronto in Abruzzo. Con il periodo che va dal primo al 30 giugno dello scorso anno. Il primo il 31 gennaio di quest'anno. Ovviamente il primo il 23 giugno di quest'anno. Il quarto richiamo non sfonda. L'hanno ricevuto soltanto in 16.387. Su una platea stimata di 293.000. I nuovi sieri all'esame. L'agenzia EMA sta vagliando i sieri aggiornati di Moderna e Pfizer. Altri 1.245 contagiati e nuovi ricoveri. Schizza in alto il tasso di positività. 20,64%. L'Aquilano ha l'incidenza più alta. E poi dicevamo anche nella prima pagina. La fotonotizia, autostrada, la tregua estiva. A 14 fino al 6 settembre. Niente lavori e maxicode. Si fermano 10 cantieri nel lungo tratto compreso tra Giulianova e Val di Sangro. Turisti, pendolari e autotrasportatori. Avranno così le corsie libere per 75 giorni. Tutti i tratti già liberati. Gli operai di Aspi 187 al lavoro dall'alba di ieri nelle direzioni nord e sud. Resta solo un mini disagio. L'uscita di Lanciano chiusa lunedì e martedì notte per rimettere l'asfalto. Questo per quanto riguarda la A14. Abruzzo lotta al caro energia. Prorogati gli sconti su luce e gas. La stangata slitta di altri tre mesi. Ridotta l'IVA e azzerata fino a settembre. La spesa extra degli oneri di sistema da pagare in bolletta. E' un aiuto per i bilanci di famiglie e imprese. Sperando che in autunno si risolva la crisi bellica ucraina. L'entità del risparmio per i nuclei familiari. Si stimano 141 euro per l'intero periodo. Indennizi lista con 1600 imprese. Regione pronte le graduatorie per i settori turismo, matrimoni ed ex zone rosse. Borse di studio per i ragazzi delle superiori. Chi ne ha diritto e a quanto ammontano una delibera della regione stabilisce i criteri di erogazione. Ancora per quanto riguarda le altre pagine del quotidiano Il Centro. C'è una notizia di politica perché si parla del caos Movimento 5 Stelle. In Abruzzo Sara Marcozzi ha deciso che lascerà i 5 Stelle. Sara Marcozzi, la capogruppo in regione Abruzzo del Movimento 5 Stelle ha deciso, lascia Conte e passa con Di Maio. La notizia si è diffusa ieri negli ambienti pentastellati abruzzesi. Ancora per quanto riguarda il quotidiano Il Centro. Super bonus, il fisco, richiama le banche. L'Agenzia delle Entrate richiede agli istituti massima diligenza dopo l'accertamento di frodi per 5,6 miliardi di euro. Per il Movimento 5 Stelle però si tratta di una narrazione tossica a base di fake news. E in molti si lamentano già delle troppe carte che vengono chieste dagli istituti di credito. La pagina dedicata a Teramo, meglio le pagine dedicate a Teramo. La prima si parla di chiuse le indagini, c'è un caso giudiziario, auto incendiata a due avvocati, non fate quel pignoramento. La procura indaga due teramani, padre e figlio, per il reato di tentata estorsione in concorso. Per l'accusa il genitore avrebbe telefonato spacciandosi per un calabrese e rivendicando il rogo. Gli accertamenti sono scattati dopo la chiamata minatoria arrivata a uno dei legali teramani. A Ter, patrimonio da difendere. Post sisma la Presidente Maria Ceci e Rivera dell'USR incontrano il governatore Marsiglio. Guardia di Finanza, il 248esimo anniversario, scoperti 40 evasori totali e milioni di IVA non versati. Nel 2021 e nei primi cinque mesi di quest'anno, 95 denunciati per reati fiscali. Nel settore degli appalti, 14 segnalazioni per irregolarità nelle procedure. Controlli sulle esenzioni beccati in 118, particolare attenzione al reddito di cittadinanza. 102 furbetti scoperti su 124 verifiche effettuate. La sosta in città, si parla di parcheggio a pagamento. Il nuovo sistema, strisce blu, ora si paga con i parcometri. Al momento la rivoluzione è parziale, è possibile usare solo monete, non ancora le carte elettroniche e l'app dedicata. Qui vediamo alcune foto, ci sono degli ausiliari che aiutano i cittadini. Ecco le tariffe, a seconda dell'area possono variare. Qualche novità per quanto riguarda tariffe che sono state ritoccate a ribasso per la seconda ora di sosta. Il costo passa da 1,50 euro a 1,20 euro. Per la quarta ora invece è previsto un incremento da 1,50 euro a 2 euro. Restano le tariffe a 0,50, quindi 50 centesimi di fatto per mezz'ora e 1,20 euro per la prima ora. Ma ovviamente si parla di percometri e c'è l'intervento da parte di Leo Iachini, presidente della Tercop. Iachini sono apparecchi fuori mercato, interviene appunto il presidente della Tercop che accusa il comune. Noi avevamo proposto colonnine di ultima generazione. Rotary ha due laureate di Unite il premio dedicato a Iardi. Si tratta di Daniela Tondini, no, il Rotary Club è preseduto da Daniela Tondini. Nel corso dell'ultima conviviale ha ospitato il professore Francesco Franceschi, direttore della Scuola di Specializzazione in Medicina d'Urgenza dell'Università Cattolica di Roma. L'incontro ha visto la consegna del premio di laurea Alberto Aiardi, giunto alla dodicesima edizione, a Giulia Di Ludovico e Adelaide per laureatesi rispettivamente in giurisprudenza e medicina veriterinaria nell'Università degli Studi di Teramo. Oggi a Torricella calcio e beneficenza con le vecchie glorie di Atletico e Teramo. A partire dalle 17 ci sarà prima un mini torneo con i ragazzi del 2010 per appartenenti alle scuole calcio Bonolis, Torricella e Aquilotti con l'atterrato. Alle 20 invece è prevista la gara amichevole tra l'Atletico Teramo e le vecchie glorie appunto del Teramo anni 80-90 con allenatori d'eccezione Pietro Cicconi e Diego Di Felice Antonio. Ad arbitrare sarà Guido Federico Di Francesco, arbitro di Serie A di basket ed ex arbitro di Serie C di calcio. Con incasso in beneficenza ci sarà anche la presenza del Vescovo. Tutto questo a Torricella Sicura nel pomeriggio di oggi vi abbiamo anche informato su questa iniziativa con l'intervista di ieri realizzata con Vincenzo Faragalli della propria società Atletico Teramo. L'evento religioso mondiale a proposito di Vescovo Lorenzo Leuzzi, pellegrinaggio delle famiglie domani in centro storico. Ancora per quanto riguarda il quotidiano, il centro arrivano ai prati tre nuovi esploditori anti-valanga, sostituiranno quelli danneggiati da una slavina. Le manutenzioni del comune di Teramo Asfalti sono ripresi gli interventi saltati o non conclusi nel 2021. Piazzetta del Sole ha finalmente la nuova pavimentazione. Sono da affidare i lavori nelle frazioni ed è in programma un piano da oltre un milione per sanare una serie di criticità rimaste irrisolte. Nuova sede, il centro servizi volontariato ora è al Parco della Scienza. Ha trovato un punto sede proprio lì al Parco della Scienza. Oggi pomeriggio invece il corteo in città, Bruzzo Pride, l'allarme di Fratelli d'Italia. Il partito ci auguriamo che non ci siano provocazioni e offese alla comunità cristiana. Corteo previsto oggi pomeriggio a Teramo. Nelle brevi concerto per la pace a San Gabriele, domani nella sala Stauros a partire dalle ore 12. Oggi invece a Bellante Paese conferenza su Jobs Act e Green Pass. Oggi al convento di Mociano Onofri presenta il libro Io e Pasolini e parliamo di Anton Giulio Onofri. La società del comune, la Team, è pronta a restituire l'IVA pagata dai cittadini sulla TIA iscritti tra le entrate del bilancio d'esercizio 2021, approvato all'unanimità 1.600.000 euro. Il sindaco, finora i giudici, ci hanno dato ragione a sentenze definitive e quei soldi verranno ridati. Oggi e domani in Val Vibrata c'è il raduno delle Ferrari di tre regioni. Fitto il programma, anche in questo caso nei scorsi giorni vi abbiamo relazionato nei nostri spazi informativi con il raduno organizzato dalla Scuderia Ferrari Club Villa Rosa di Martinsicuro, guidato dal presidente Dino Natali. Gli eventi di Teramo Natura Indomita, concerti sono aperti i botteghini, è partita la prevendita per Vecchioni, Arisa, Noemi e Elite FIBA. Iniziative WWF Giulianova e Roseto, pulizia della foce del Tordino e osservazione dei fratini. Una biciclettata contro il diabete organizzata dai club Lions Terramani si concluderà a Giulianova, oggi con partenza da Martinsicuro e Silvi. Croce Bianca, eletto il direttivo, l'associazione di volontariato, Graziano è stato riconfermato presidente, nominato il consiglio, presidente appunto Camillo Graziano. Siamo ai pagine dedicate alla costa, Martinsicuro stallo dopo le elezioni, giunta Vagnoni non trova la quadra, rischio spaccatore, nessuno tra gli ex assessori e i più votati fa un passo indietro. Il primo consiglio dovrebbe essere convocato il prossimo 4 luglio. Corropoli minacce a ex moglie e figli, un 43enne ai domiciliari e poi ancora via Scolana, presto il nuovo ponte affidata all'opera di ricostruzione dell'infrastruttura inagibile tra Alba e Corropoli. Torna stasera la notte rosa dei bambini, Tortoreto il grande evento, mentre a Martinsicuro la Morgan Carbon festeggia 60 anni. Siamo nella pagina dedicata a Giulianova, truffa del falso avvocato, segnalati tentativi di Raggiro, Mociano, allarme della consigliera Cianella e di Forza Italia. In arrivo 100 posti auto nella zona centrale del Lido, un terreno privato sostituirebbe gli stalli persi sul lungomare fino a settembre, attivati parcheggi a pagamento nella zona sud, ma sono quasi sempre vuoti. L'edificio di Case di Trento, il cittadino governante non vendete la ex scuola. E poi ripristinata la condotta Laga del Consorzio di Bonifica dopo la rottura che nei giorni scorsi ha interessato il territorio di Giulianova. Debutto per la vela paralimpica, Giulianova ha ospitato la prima regata in Abruzzo delle classi dedicate ai disabili. Roseto, la città che cambia le strategie e impianti sportivi, si punta sul bando da 800 mila euro. Il Comune presenterà un progetto, sono in corsa San Giovanni e Campo a Mare e si torna in consiglio per ridefinire l'assegnazione dei campi di quartiere. Colonia Spiaggia sventa la truffa dello specchietto, ho detto chiamo i carabinieri, mentre sempre a Roseto ripascimento in corso le analisi sulla sabbia. L'intervento previsto a giorni, la polemica, Dazzi a Fratelli d'Italia usa i consigli di quartiere per fare politica. A cura dell'associazione sportiva Roseto, calcio nasce una squadra tutta formata da bimbi ucraini e ancora una volta società del presidente Camillo Cerasi che si contraddistingue per queste iniziative legate soprattutto alla solidarietà. L'acqua di San Giovanni, successo per l'evento al Borsacchio, c'è la fotonotizia, successo appunto per l'evento escursione con preparazione dell'acqua di San Giovanni, natura, tradizione e diritti organizzato dalle guide del Borsacchio in collaborazione con altre associazioni del territorio che si è svolto venerdì pomeriggio alla fonte della colle, tanti presenti tra i quali diversi ucraini. Legambiente al Cerrano c'è il mare migliore d'Abruzzo, cerimonia alla torre per la presentazione della guida blu realizzata dall'Associazione Ambientalista, confermato il riconoscimento delle quattro vele all'area protetta istituita a cavallo tra Pineto e Silvi. Pineto dal 30 giugno via al primo torneo di tennis open federale, mentre per quanto riguarda Atri, soggiorno termale per gli anziani di Atri dal 14 al 15 settembre prossimo ad Ischia. Silvi, ecco il cartellone degli eventi di luglio, si svolgeranno nelle piazze Marconi, dei Pini e Fermi, anticipazione sul Ferragosto, ci saranno i fuochi. Ci trasferiamo alle pagine dedicate alla cultura, tenendo presente che sul Cotidano il Centro è tornato l'inserto Aquilone, dove potete trovare tanti appuntamenti. Lo sport, c'è la notizia dedicata all'Abba a Pineto, con la formazione inserita nel campionato di Serie A3 maschile che ingaggia il palleggiatore Paris, esperto palleggiatore Matteo Paris, 38 anni, dopo il settore giovanile, ha tanta gavetta nella squadra della sua città in Guillara, Sabazia, Molfetta, Castellana Grotte, Gaeta e Reggio Calabria. Paris viene ingaggiato in A2 dal Corigliano e a seguire due esperienze in Grecia con Salonico e Omironos Sirus, pallavolo Piacenza in A2, dunque l'ultima stagione col Palmi in A3, un curriculum di tutto rispetto per il nuovo palleggiatore della Labba Pineto, Matteo Paris. Calcio di Serie C, Rebus, Biancorosso, il Teramora spera, venerdì atteso il verdetto della Covisoc, si aspetta il Placet per avere la certezza della Serie C, tra meno di una settimana invece ci sarà una nuova assemblea dei soci. Dilettanti in festa e Gravina premia i migliori ad altri la serata per le squadre che hanno vinto i campionati, presente anche il direttore sportivo del Monza, Filippo Antonelli, che vediamo qui nella foto, premiato proprio da Gabriele e Gravina. A tal proposito vi ricordiamo che nei nostri spazi informativi oggi avremo un'intervista proprio con Gabriele Gravina realizzata proprio ieri sera alla festa dei dilettanti del calcio abruzzese fatta ad Atri, parlerà anche della questione. Teramo sul centro trova spazio anche la palla a mano donne di Serie A2, il Teramo verso il ripescaggio con l'abbrecciosa tecnico confermato, si attende praticamente solo l'ok da parte della Federazione per la Società del Presidente Roberto Canzio. Noi dal quotidiano al centro ci trasferiamo al quotidiano il messaggero con il titolo d'apertura che torna di stretta attualità con il Covid. Subito le terze e quarte dosi, l'impegnata del Covid, i primari Parruti e Grimaldi, Coppa dello Stoppa, le vaccinazioni, positività al 20,6%, tutti gli indicatori in salita, adesso aumentano anche i ricoveri. Per quanto riguarda le altre notizie, Teramo strisce blu in centro, parte la rivoluzione della sosta, mentre emergenza su emergenza, abruzzo nella morsa del caldo, siccità, acqua razionata, giù le produzioni agricole. La porta di Bansky, Bataclan, l'albergatore, una sentenza che mi ha riabilitato, mentre pizzeria in calo, il virus affonda, la produzione dell'Abruzzo e qui c'è un approfondimento sul quotidiano. Il messaggero sotto la testata, spazio anche allo sport, in prima pagina del quotidiano il messaggero, Teramo in attesa dei pareri sull'iscrizione, si mobilitano i tifosi contro il club. Ancora per quanto riguarda le pagine interne, la lotta all'epidemia, Covid, l'appello dei primari, subito terze e quarte dosi. Parruti, Pescara, Grimaldi, L'Aquila, nuova crisi per lo stop alle vaccinazioni. Saliti tutti gli indicatori del contagio, la positività sopra il 20%. Raddoppio Roma-Pescara dopo la delibera regionale, i territori adesso sperano, De Luca, sindaco di Manoppello. La partita si riapre per il progetto alternativo. Andiamo alle pagine dedicate a Teramo, il titolo di apertura è dedicato ai parcheggi. Ora si parte, la prima settimana però, non ci saranno multe in funzione ai 32 nuovi parcometri operativi gli ausiliari. Critico il presidente della Tercop, Leo Iachini, tecnologie già vecchie. Per ora si paga solo con le monete, aggiorni a regime il sistema bancario e la app. Ci sono tutti i dettagli nell'articolo. La guida blu di Lega Ambiente del Touring Club ha assegnato quattro vele alla costa dell'area marina protetta della Torre del Cerrano. Bataclan, l'avvocato dell'albergatore, è una sentenza che ora lo riabilita. Team chiude i conti con 90 mila euro di utile e poi ancora la notizia che abbiamo trovato in prima pagina si cita via al razionamento dell'acqua. Il bilancio per le fiamme gialle scoperti 40 evasori totali. Strade, i nuovi investimenti in buca. L'industriale Pigliacampo, siamo a Giulianova, vuol realizzare una ditta da 400 posti. L'iniziativa messa a rischio dagli asfalti dissestati della zona. Lo stesso assessore di Candido ammette il disastro. In ballo c'è una buona parte dell'economia cittadina. E qui vediamo una foto eloquente con le strade disastrate della zona industriale di Giulianova. Tortoreto stasera la notte rosa con i giochi per i bimbi. Mentre sempre a Giulianova si parla di politica con Eden Cibèi che valuta il ritorno con un movimento. Figura storica quella di Eden Cibèi. Per quanto riguarda lo sport, il calcio di Serie C, teramo al primo step ma i tifosi protestano. In attesa di una settimana densa di appuntamenti, il club 16 gradoni espone uno stricione nell'area del vecchio stadio comunale contro la dirigenza. Subito il parere della Covisoc che sta passando in rassegna tutte le domande delle società. Ancora per quanto riguarda il calcio, soprattutto dilettantistico, iscrizioni. Parliamo di Serie D, vastese, ore decisive, chieti, solo, sondaggi. Ma si parla anche del Pineto col presidente Silvio Brocco che ha ottenuto il premio di club alla carriera. Un riconoscimento consegnato da parte del Dipartimento Interregionale della LND per la stagione calcistica appena conclusa. Tutto mentre il fantasista Mini Incleri sarebbe in procinto di trovare un accordo con la società per restare un'altra stagione con i biancazzurri. Il tecnico vorrebbe trattenere anche l'esperto centrocampista Paoli, mentre Romano si allontana l'attaccante. A proposito di attaccanti, Barlafante ha diversi estimatori da categorie superiori. Pallavolo Abba Pineto arriva a Paris, Ortona il sogno in Marshall con Matteo Paris, appunto, che è il nuovo palleggiatore dell'Abba Pineto. 38 anni, grande esperienza, anche lontano dai confini italiani. E con questa notizia, di fatto, si chiude la rassegna stampa per questo appuntamento di prima mattina. Ma prima di salutarvi, alcuni appuntamenti. Vi ricordo, intanto alle 9 saremo con la trasmissione a colazione a Bellante. L'ospite è Giovanni Di Carlo e con lui affronteremo il basket tutto tondo con il settore giovanile, soprattutto della nuova Campli Società Emergente. E poi, per quanto riguarda i nostri spazi informativi, alle ore 14 e alle ore 19. Grazie per averci seguito. Un saluto, ovviamente, anche da parte di Giancarlo Rapagnà in regia. Appunto, grazie e buon fine settimana a tutti. Grazie a tutti.